Buongiorno a tutti, buon lunedì 13 maggio, ci avviciniamo alla grande festa di domenica con la consegna della Coppa dello Scudetto che, per chi vuole, è in esposizione nel centro di Milano in un negozio dello sponsor che la sponsorizza quindi se volete fare foto, video e siete a Milano, ci sta per festeggiare ancora di più squadra che mi fa capire, insomma, anche come Inzaghi cerchi di sempre seguire il gruppo, farsi benvolere ma soprattutto non sottovaluti quello che aspetta tanti dei suoi giocatori ha concesso quattro giorni di riposo che non si sono mai visti sabato, domenica, lunedì, martedì e ci si ritrova da piano mercoledì pomeriggio per capirci potete così realizzare la stanchezza di tutto il gruppo dopo questa stagione ma anche l'intenzione di fare un po' di vacanza a chi poi avrà Coppa America a chi avrà gli europei, magari qualcuno verrà convocato anche per le Olimpiadi e dunque già pensa oltre, così come la dirigenza mentre si stava vincendo il ventesimo Scudetto aveva già messo a segno i colpi Zilinski e Taremi che tra l'altro, come sottolinea, il Teccaldo più famoso di YouTube adesso che è tornato a giocare, ha fatto quattro gol nelle ultime sei partite ieri il suo addio in lacrime al Porto che l'ha costruito, l'ha fatto diventare un attaccante di livello internazionale gli ha permesso di guadagnarsi l'Inter e sarà un rinforzo importante ma così come la dirigenza anche Inzaghi pensa al futuro pensa anche a quella che sarà la preparazione il ritiro, la tournée che dovrebbe essere ufficializzata anche quella quindi attendiamo una serie di comunicati, di ufficialità in questa settimana che può essere veramente quella più importante della storia dell'Inter per il futuro tournée in Cina con Atletico Madrid e Paris Saint Germain come aveva spoilerato anche Steven Zhang che da Shanghai ieri sera ci ha mandato questo video con i grattacieli nerazzurri con i risultati degli ultimi sei derby vinti con il grazie all'Inter, ai giocatori, all'allenatore, ai suoi dirigenti e alla sua squadra per il settimo trofeo targato Suning che non vuole che sia l'ultimo mi raccomando prima di ogni cosa iscrivetevi al canale che dobbiamo adesso accelerare verso i 50.000 follower ricordo anche il gruppo Telegram scaricate l'app nello store e poi come Whatsapp è un servizio di messaggi gratuito cercate il gruppo Marco Barzaghi Inter in basso a destra cliccate Unisciti e ricordiamo naturalmente la nostra petizione anti-odio sui social anti-haters basta un click è un segno di civiltà se non l'avete ancora fatto oggi dobbiamo superare le 2000 firme che sono veramente poche quindi tanti di voi non hanno cliccato vi metto il link nei messaggi fissati e in descrizione mi raccomando perché chi più chi meno può aver avuto a che fare con questi odiatori seriali che possono essere molto pericolosi soprattutto anche con i più giovani quindi bisogna dare anche alle autorità la possibilità di intervenire in caso di reati e queste grandi piattaforme multinazionali devono soprattutto dare una mano e chiedere un'iscrizione comprovata da documenti reali così che questi odiatori seriali non possano più nascondersi dietro un nick e poi vengano si prendano le loro responsabilità se minacciano se diffamano come tanti anche fanno spesso qua su youtube ma tempo al tempo ci sarà tempo per ogni cosa e per tutti piano piano come aspettiamo l'ufficialità dell'accordo con Pinco tra Suning non Zhang o il club come erroneamente scritto anche oggi dalla gazzetta tra Suning e Pinco da 430 milioni da restituire entro tre anni a un tasso che si saprà solo al momento della firma di cui non conoscono l'entità neanche gli studi che ci stanno lavorando Latam e Piper ma dovrebbe essere intorno al 15% vediamo se abbiamo anche qua preso il mega scoop 18 febbraio abbiamo detto prima di chiunque altro su Sport Mediaset che Zhang aveva trovato la via del rifinanziamento con un fondo americano testuali parole al 15% quando tutti parlavano di riscadenziamento rifinanziamento e quant'altro noi siamo sempre stati abbastanza diciamo non ci siamo esposti perché avevamo saputo di un fondo americano che non necessariamente doveva essere OCTRI come in tanti sostenevano e con cui risultavano comunque problemi e come abbiamo visto solo la possibilità di un anno un anno solo da concedere e quindi non sarebbe cambiata per niente la situazione con Zhang che si sarebbe trovato ancora con la pressione di dovere in fretta e furia pensare a un'accessione per ripagare il nuovo prestito e quindi con le mani abbastanza legate poi chiariamo bene non diciamo assolutamente che sarà una mossa duratura ma come vi abbiamo sempre spiegato da anni è un modo per prendere tempo per continuare il cammino verso la sostenibilità il miglioramento dei conti vedremo se l'anno prossimo non come quei cialtroni che ci mettono in bocca cose che non abbiamo mai detto ci sarà un pareggio di bilancio non questo giugno per cui è previsto un saldo negativo tra i 40 e i 50 milioni però ancora tutto da stabilire da vedere anche se ci saranno delle operazioni lo stabiliremo presto e poi la cosa fondamentale che abbiamo sempre detto con l'avvocato Costa lo stadio il progetto stadio che fa tutta la differenza per questa situazione perché Zanga chiede un miliardo e tre nessuno ha offerto neanche un miliardo quindi anche tutte le voci che ci sono non hanno niente di concreto al momento e vedremo appunto definito il processo stadio se sarà San Siro o Rozzano ancora bisogna capirlo e vederlo quando partiranno i primi lavori soprattutto allora lì sì che l'asset Inter potrebbe avere un boost di due trecento milioni e portare offerte che sono che sarebbero appunto vicino a quanto chiede Zhang che non ha mai ricevuto niente che potesse diciamo soddisfarlo per intavolare un argomento cessione quindi non un prestito ponte ma qualcosa che permetterà a Zhang di sistemare ancora di più l'Inter e poi come sappiamo e abbiamo visto nel tempo il tutto è materia fluida e non escludiamo assolutamente nulla e aspettiamo che tutto sia ufficiale e poi andremo anche a rispondere a tutti quelli che ci avevano attaccato su qualsiasi tipo di piattaforma tempo al tempo allora chissà cosa diranno adesso che Inzaghi ha concesso quattro giorni di riposo tra l'altro voglio dire prendetevi una bella boccata d'ossigeno rilassatevi basta vedere la condizione in cui sono le altre squadre tutte contestate fischiate e l'Inter una volta che si può godere una festa a 360 gradi c'è sempre chi prova a rovinarla ma anche gli pseudo interisti che adesso sono diventati tutti commercialisti ma godetevi questo successo questa cavalcata straordinaria la situazione di difficoltà in cui sono le storiche rivali un Napoli che non sa da dove ripartire e sembra che abbia scelto Pioli un Milan che ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro allenatore con ultima notizia Conte che si sarebbe proposto ma al momento sembra con Seisau in cima alla lista Sacchi suggerisce Sarri o De Zerbi un allenatore italiano la Juventus sommersa di Fischi che è riuscita solo al 91esimo a pareggiare contro una Salernitana a Torino già retrocessa e quindi cosa vuol dire che non ha avuto rispetto della lotta la Champions no non credo ma a volte capita come abbiamo visto anche col Sassuolo lì c'erano anche diversità di motivazioni importanti capita che ci siano dei risultati a sorpresa capita che una squadra non riesca a rendere come i valori che avrebbe sulla carta e quindi una Salernitana già retrocessa quasi vince a Torino senza nessun tipo di obiettivo e la Juve deve solo ringraziare un'Atalanta straordinaria che ha vinto solo 2 a 1 ma ha stradominato contro la Roma e le ha regalato vincendo l'Atalanta la Champions un'Atalanta veramente impressionante nel primo tempo per quantità di gioco occasioni gol un decetelare veramente trasformato da Gasperini dal timido e impaurito giocatore che si era visto con la maglia del Milan adesso è pronto il riscatto dell'Atalanta a 22 milioni dopo i 3 pagati per il prestito oneroso del giocatore belga che ha fatto una stagione importante con la doppietta di ieri ha preso anche un palo arriva veramente ad avere numeri molto interessanti perché ha fatto 9 gol in campionato 13 totali se non sbaglio con 8 assist tra Coppa Italia Europa League esatto il conto è giusto aveva fatto 0 l'anno scorso capite anche la bravura di Gasperini nel ricostruirlo e ve la butto lì da titolo una pazza idea di chetelare che cosa vi sembrerebbe andare dall'Atalanta bene o male il costo dovrebbe essere simile a quello di Gudmundson ma togliersi anche lo sfizio di riportarlo a Milano con una maglia di un colore diverso trasformato dalla cura Gasperini come quarto attaccante terzo quarto attaccante con fisicità con tecnica dribbling assist e quant'altro secondo me potrebbe essere qualcosa di molto goloso però chiedo anche a voi è cresciuto veramente tanto da quando veniva un po' anche con poco rispetto deriso come colpo fallito invece adesso è diventato un giocatore totale che secondo me un pensierino lo meriterebbe valutazione sui 30 magari qualcosina in più però modalità sicuramente che si possono trattare con l'Atalanta che proprio col Milan aveva fatto la stessa operazione alla frattesi prestito oneroso pagato subito con poi in riscatto obbligatorio tanti giovani nerazzurri che piacciono alla famiglia percassi che si possono mettere in un'ipotetica trattativa secondo me secondo me c'è c'è qualcosa che può essere molto interessante anche perché poi ha 23 anni e può crescere ancora ancora parecchio altri nomi nuovi ne parliamo tra poco ricordo che adesso la Lazio è più che mai motivata sogna addirittura in caso di vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta la possibilità di rientrare in gioco per la Champions quindi avrà motivazioni ben più consistenti di quelle dell'Inter di domenica che però credo voglia festeggiare al meglio però ve l'ho detto quattro giorni di riposo a memoria non li ho mai visti nel mezzo di una stagione senza sosta tra una gara e l'altra di campionato poi rimarrà l'ultima Verona Verona che ieri ha perso una partita pericolosissima in casa contro il Torino facendosi ribaltare che rischia veramente tanto quindi adesso vediamo le ultime due con l'Inter che vuole migliorare i suoi 92 punti vuole provare a scrivere qualche record però si troverà di fronte due squadre con motivazioni alte Champions barra comunque Europa la Lazio e poi il Verona che invece deve salvarsi in una lotta per non retrocedere molto molto complicata per tutti vedremo chi la spunterà nelle ultime due giornate tra l'altro anche il Sassuolo si è fatto ribaltare dal Genoa che non aveva motivazioni proprio se non quelle di regalare una gioia ai suoi tifosi e di migliorare ancora di più la classifica invece è andata a vincere la squadra di Girardino dicevamo in attesa della svolta societaria che poi sbloccherà anche i rinnovi prima quello di Varella che è già stato impostato definito 7 milioni compresi bonus a stagione fino al 2029 poi bene o male per una cifra analoga quello di Inzaghi fino a 2027 e poi a ruota si conta di chiudere con Lautaro Martinez prima del ritiro che adesso cercheremo di scoprire anche la data di inizio per una cifra a metà strada tra domanda e offerta che dovrebbe attestarsi intorno ai 9 più bonus anche se c'è ancora distanza anche se continuano le trattative con le volontà di entrambe le parti chiarissime di continuare di firmare ma anche lì si attende la sigla la firma il mettere nero su bianco dicevamo nomi nuovi con un interesse della Stonevilla che ha ribadito di volere Denzel Dumfries che però non so quanto possa essere interessato da una squadra come la Stonevilla diciamo medio alta di Premier ma che non è un top club quindi da capire in attesa dell'europeo che visto anche il ruolo che ha Dumfries nell'Olanda anche se c'è un frimpong l'esterno del Bayer Leverkusen in crescita esponenziale ma che potrebbe farne salire la sua valutazione l'Inter chiede 30 milioni c'è in ballo un rinnovo che prima era saltato poi si è riaperto adesso comunque non non si trova una convergenza perché il giocatore continua a chiedere 5 milioni e mi sembra che anche la sua ultima stagione non è che confermi una cifra del genere l'Inter offre 4 così come ha chiuso con Di Marco che ha fatto sicuramente meglio trattativa in corso ma come abbiamo sempre detto probabilmente sarà lui a finanziare anche il mercato in entrata con 30 si spera milioni per poi acquistare un suo sostituto e adesso parliamo anche di nuovi nomi per la fascia destra il portiere Bento che ha parlato ha sottolineato come gli faccia piacere l'interesse dell'Inter come continui comunque a spingere per arrivare in nero azzurro essere il vice sommere diventare poi il numero uno del futuro tra l'altro convocato per la Coppa America dopo anche le buone amichevoli che aveva giocato con la nazionale brasiliana facendo salire il suo valore e l'attenzione anche del Chelsea e di club inglesi quindi bisogna fare in fretta con l'atletico paranaense però che è un ostacolo duro e che non molla che chiede ha messo una clausola da 60 milioni ne dovrebbero bastare 20 l'Inter spera che il giocatore appunto spinga anche per riuscire a scontare qualche milione e chiudere l'operazione per la fascia destra abbiamo fatto tanti nomi Cayode il più futuribile ma anche costoso l'esterno italiano della Fiorentina Olm dell'Atalanta Posh del Bologna tutti nomi interessanti dalla Germania dall'Olanda sostengono che l'Inter sia molto interessata al giapponese Sugawara della Z-Alkmar nome che abbiamo fatto da tempo che tra tutti è quello più economico anche se extracomunitario e che è molto interessante e avendo il contratto in scadenza 2025 potrebbe con solo 6 milioni lasciare l'Olanda e trasferirsi in Italia sulle orme qui di un Nagatomo in tutto e per tutto piace molto veloce tecnico 29 partite 4 gol nella stagione un bel destro rapido e secondo me da tenere in grande considerazione in virtù proprio anche del prezzo che ti potrebbe consentire appunto con la cessione di Dunfrid di prendere lui e anche Bento e avere magari anche del cash per un prestito oneroso dell'attaccante e lì anche lì cercheremo di capire dove si andrà a parare con i nomi che sono quelli di Gudmundson su tutti che piace molto che ha grande rapidità velocità salta all'uomo tiro da fuori l'abbiamo detto possibilità di una operazione alla frattesi poi abbiamo suggerito oggi un'operazione decetelare che secondo me si può valutare molto molto interessante poi ci sarebbe la questione difensore che comunque ausilio ma l'ha fatto anche sul discorso attaccante ha un po' diciamo rinviato all'anno prossimo ma bisogna fare attenzione perché un innesto secondo me servirebbe con parecchi giocatori che avranno un anno in più e la carta di cui la carta di identità diventa essere pesante fare delle attente valutazioni se inserire un difensore che possa aumentare la profondità della rosa in una stagione che sarà massacrante ancora di più e qui capite anche perché Inzaghi adesso stia veramente concedendo riposo relax perché su tutto anche se c'è chi non lo capisce non bisogna rischiare poi inutili infortuni in un momento in cui si è già festeggiato tutto si sono raccolti i frutti di un'annata straordinaria e ci sono tanti giocatori ad esempio Ciaranoglu avete visto che non è neanche sceso in campo nelle ultime partite ma perché proprio è arrivato in riserva dopo una incredibile stagione in cui ha segnato da solo più di Arnautovic e Sanchez che è un po' il problema dell'Inter analizzando i numeri come abbiamo fatto ieri a Sport Mediaset gli attaccanti hanno segnato solo 51 gol su 101 poco più della metà molto poco e questo perché perché a parte i 27 di Lautaro i 14 di Turam su cui però ci mettiamo anche 7 assist e 3 rigori procurati 2 autogol tra parentesi Arnautovic 5 e Sanchez 4 sono un po' l'anello debole che bisogna migliorare perché hanno avuto anche spazio e occasioni hanno segnato veramente poco in una prossima stagione in cui ci sarà la nuova Champions il mondiale per club un campionato che l'Inter vuole provare a rivincere subito secondo me lì bisogna intervenire già Taremi un buon rinforzo però o piazzi Arnautovic o lo tieni come quinto attaccante ne devi aggiungere un altro con la questione poi Correa tutta da vedere si dice che Verón lo rivorrebbe alle Studiantes in Argentina sarebbe un bel aiuto anche perché se non lo piazzi quest'anno lo perdi a zero e questo rimarrà comunque un errore gigantesco tra tanti colpi di mercato azzeccati non si può fare sempre centro diciamo così un po' di vostri commenti mentre ricordiamo di iscrivervi al canale la nostra petizione i vostri messaggi quelli con più like ne andiamo a leggere presto torneremo anche in live non vi preoccupate appena sarà arrivato il momento giusto mi ero dimenticato ieri di fare gli auguri a tutte le mamme così preso dalla questione Pinco chiedovenia sono stato bacchettato ma ci avete pensato voi a scrivere bellissimi messaggi per tutte le mamme non solo quelle interiste come Marilena siamo stelle che brillano nel cielo azzurro sempre amala anche la rita buona festa della mamma anche a quelle mamme che sono in cielo grazie Marco per la tua grande professionalità e l'empatia che ci trasmetti giornalmente e sono felice di riuscire a trasmettervi qualcosa LGS un amore così grande internazionale ne voglio di più ancora di più ho fatto un sogno e c'eri tu e qui mi sembra il ritornello della nuova canzone celebrativa ma avete visto il video di Intermedia House sulla festa della mamma da brividi è proprio dici bene Andrea nonna novella a tutte le mamme di questo mondo specialmente a quelle interiste un pensiero a quelle che piangono i loro figli morti prego che finiscano queste guerre pace sempre solo pace Mario Cuore Nerazzurro auguri anche le mamme che ci proteggono dallassù le notizie odierne sono confortanti il fatto che sulle prime pagine dei giornali che solitamente ci denigrano non ci siano titoli roboanti riguardanti la beneamata lascia ben sperare incrocio le dita aspettando la fumata bianca firmate la petizione buona domenica grandissimo Marco grande estellata Inter per tutti buona festa scusate della mamma tutte le mamme specialmente quelle nera azzurra attendiamo l'ufficialità sul futuro societario per cui non ho mai avuto dubbi Gezzang resterà ancora con noi Luca Clerici Luca De Feo Intermedia House ci ha fatto un bellissimo regalo credo si possa dedicare a tutti coloro che non sono più con noi e che ci hanno mandato questa seconda stella Anthony dai che la tanto attesa notizia sulla proprietà è arrivata adesso ci vuole solo la continuità col progetto e fare piccole modifiche nella rosa ma non la toccherei più di tanto per non rompere l'equilibrio direi che ci siamo andiamo avanti poi vediamo un attimo che cosa cosa anche dicono e scrivono i giornali ah no non vi avevo detto di Dedic questo mi sono dimenticato per la fascia destra il nome nuovo l'esterno che abbiamo incrociato del Salisburgo anche in Champions valutazione però alta 20 milioni l'Inter l'ha seguito con interesse è uno dei nomi che mettiamo nel pacchetto dei possibili sostituti di Dunfries per tutti quelli dice Mario che hanno la fortuna di avere ancora la mamma datele un bacio ogni giorno quando non ci sarà più ripiangerete tutti quelli che non le avete dato anche Alice dice video della festa della mamma di Intermedia House bellissimo e chi lo racconta agli scantinati adesso dice Bonny che salutiamo a tutte le nostre mamme un abbraccio forte Roberto Stomaci Mario Mancini godimento rimandato uguale godimento prolungato e ci sta anche la rima vedere le reazioni Marco di tutti gli antinteristi è stato più godulioso che vincere il campionato per quanto riguarda Zang Stefano dice il nuovo finanziamento era già previsto da noi altri stanno aspettando i gammelli e lasciateli lì sulla loro tresfolo Paolone una nota cantante scrisse cantò una canzone parole 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 soltanto parole che da gran signori noi intervisti ci lasciamo scivolare Attila buona giornata a tutti i campioni d'Italia ho visto il video di Turam che intervista Buchanan ma quanto deve essere timido questo ragazzo sembrava imbarazzato attendo con serenità sviluppi societari in settimana abbiamo detto domani dovrebbe essere il giorno delle firme venerdì l'annuncio aspettiamo novità intanto diamo un'occhiata alla rassegna stampa da Sport Mediaset i titoli dei giornali che naturalmente parlano di Verdetti di Bologna che festeggia ma anche la Juve di rimando di una Atalanta straordinaria di un Napoli in crisi che deve ripartire Juve Champions è a capo Penosa Rischia il K.O. con l'ultima e ora sarà Rivoluzione Dea in paradiso nuova Inter la Stonvilla su Dunfrid e l'Inter si butta su Dedic andiamo all'interno della gazzetta rapidamente se ce la facciamo con la finale di Coppa Italia mercoledì che sembra darci un'Atalanta più che mai gran favorita c'è una Stonvilla e anche un Manchester United che potrebbero essere interessati ad Enzel Dumfries Dedic il nome nuovo che vi abbiamo detto per la fascia destra anche se costa una ventina di milioni il Corriere dello Sport con cui chiudiamo fino alla fine la copertina per la Juventus De Ketelare Show Gas piega la Roma e buona giornata buona giornata